Per mettere d'accordo Veneto e Trentino sui confini della Marmoleda già volo belle che Trentino. Tanto già volerà per trovare un'accordo sul sviluppo della Reina della Dolomitas e più a Svisa sui neves impianci sull'aperta Trentino? Le chiesto alla domanda che si fesse i operatori turistici del Fedado che la provincia di Trento la proa l'accordo dei programmi per la riorganizzazione di impianci Portamont. È un progetto che non piace ai rifugiati, hotelieri e all'amministrazione perché è il perveito di impianci che ruide ora a sassa bianchette invece che fin sul somma alla Marmoleta. Ma solo il tutto, un'accordo che la cognara è stata sottoscritta e c'è dal Veneto. A fare la costa ora più sinistra di chi si dice, le ruide c'è il parere negativo della Fondazione Dolomiti Unesco che la sedisce contro il neve impianta Portamont. Una struttura che la potesse arruinare l'integrità della Marmoleta e far così perdere il titolo Unesco ad tutta la Dolomiti. Insomma, se già sarà senista al metter d'accordo dei territori che da sempre è spartì sulla Marmoleta, sarà ma più in grà il far con il parere negativo della Fondazione Dolomiti Unesco. Una tutta per il culo da man di politici trentini che non ha il coraggio di tornare la decisione che era, dice Foradrette Aurelio Soraruff, che da sempre è la host di operadores del Fedà. Una questione dei principi, ma ince di numeri. In piance Portamont che da malgracciapella ero a somma alla Marmoleta e fa passa 350.000 passaggi al anno. Numero a qui che il Germain del Veneto non valerà renunciare tanta storia.